calegnaia 11 di settembre 2019 ha fatto un po di giorni di freddo di pioggia di maraccio non è stato possibile diciamo andare al mare oggi il mare era calmo l'acqua era fresca perché il vento praticamente di terra la ghiacciata parecchio però non era proprio gelata era possibile fare il bagno in modo abbastanza gradevole il sole ormai non brucia più non è più stagione di andare al mare arrivando alle 9 8 e mezzo un quarto alle 9 perché a quell'ora l'ora solare sono le praticamente le 8 o le 7 e mezzo e fa freddo per andare al mare a settembre ormai con questo clima bisogna arrivare sul posto ritorno all'11 11 e mezzo un quarto a mezzogiorno che equivale praticamente alle 10 10 e mezzo un quarto all'11 il sole incomincia a essere abbastanza forte e non c'è più il rigido mattutino tipico diciamo dei periodi settembrini un saluto ciao 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 Grazie a tutti.